Sì Altrettante energia anima i protagonisti di selfie Come dice il titolo, il regista Agostino Ferrente ha dato loro un telefonino per raccontare la realtà del rione Traiano a Napoli Tra morti ammazzati e difficoltà quotidiane, i tuoi protagonisti non perdono però il sorriso Ho scoperto dei ragazzi meravigliosi che hanno voglia di vivere Ma sì, perché loro non hanno sogni irraggiungibili, vogliono una vita normale Laddove la normalità non è proprio dietro l'angolo Io voglio raccontare che c'è la speranza di farcela, per me sono degli eroi No, non è possibile, perché è un quartiere ricco Eh? Ma secondo te? Io, noi, i figli nostri, i figli nostri Potessimo mai venire ad abitare qua?